Ben trovati i nostri telespettatori a questo nuovo appuntamento con l'informazione che apriamo come di consueto con la pagina dedicata alle anticipazioni di cronaca. Attentato nella notte contro la nuova abitazione del comandante della stazione dei Carabinieri di San Donaci, Francesco Lazzari. La villetta dove è stato appiazzato l'ordigno si trova a Cellino San Marco. Lazzari era al comando della stazione di Torre Santa Susanna quando Giovanni Vantaggiato tentò di uccidere l'ex socio Cosimo Parato. Le modalità dell'attentato odierno invece non sono ancora state rese note dagli investigatori. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Brindisi e Francavilla e del nucleo investigativo del comando provinciale. I militari della Guardia di Finanza di Brindisi hanno sequestrato 15.000 bottiglie di vino da 75 centilitri del valore complessivo di 300.000 euro per contrabbando doganale destinata ad una società del Nord Italia. Le bottiglie si trovavano in un'auto articolato appena sbarcato dalla motonave Sorrento proveniente dalla Grecia, sequestrate inoltre un'auto articolato e la documentazione commerciale relativa al carico, denunciato l'autista, del mezzo e illegale rappresentante della società a cui erano destinate. E andiamo avanti, sequestrati beni del valore di circa 60.000 euro costituiti da 10 quintali di oro rosso e 9 quintali di gasolio. Ancora cronaca incidenti sulla statale. Sette Brindisi Taranto questa mattina che hanno visto coinvolte almeno tre vetture a provocare la carambola di auto, la perdita di olio dal motore di un bus. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma soltanto danni ai mezzi sul posto i carabinieri del Norma e delle squadre dell'ANAS che hanno provveduto a spargere sabbia sulla corsia invasa dall'olio. È tutto per la cronaca, ci separiamo per qualche istante di pubblicità fra pochissimo con tutte le altre notizie del Tg. Grazie. 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 Grazie.